La Virtus travolge le man senza darle la possibilità di entrare in partita già dalla palla a due per dedicare una serata speciale al ricordo del presidente Alberto Bucci e per voltare pagina dopo l'esonero di Sacripanti e l'arrivo di Giorgevic che in 24 ore ha già trasmesso il suo sguardo cattivo e determinato al gruppo. Così il 26 o 27 marzo in trasferta e il 2 o 3 aprile al Paladozza la sega freddo si giocherà i quarti di finale di Champions League contro un'altra francese il Nanterre con l'obiettivo di entrare nelle prime quattro della competizione dieci anni dopo l'ultima volta si capisce da subito che non ci sarà partita, che le man è nella migliore delle ipotesi spettatrice non pagante di una serata diversa. Panther 12 punti, Aradori 6 e 4 assist e Kravic già i migliori a Cantù danno lo sprint al primo quintetto, Chalmers incanta all'ingresso, Taylor 8 assist comanda da direttore d'orchestra puro e ispirato, Sinfonia Vera già più 15 all'intervallo cercandosi in attacco e aiutandosi tanto in difesa quello che era mancato nelle ultime settimane costando il posto a Pino Sacripanti la reazione emotiva c'è stata, l'intervento psicologico di Sale anche un'attenzione massima per 40 minuti, quella che il nuovo coach aveva chiesto stritola le mani, si vola anche a più 33, la partita non c'è, la voglia invece si vede sempre si riparte da qui, l'ultimo pensiero è ancora per lui c'è solo un presidente, cantano dalla curva bianconera che ora tende di chiamarsi Curva Bucci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti